Operazione Bologna sommersa, 5 fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Romano Prodi, ospite della redazione d'Incronaca. Elezioni regionali, Unione Europea e futuro del PD tra i temi trattati. Insieme per il lavoro, il bilancio 2019 di un progetto che inserisce nel mondo del lavoro persone con difficoltà. Basket, Eurocup, la Virtus batte Trento, l'Evunera è sempre più vicina ai quarti di finale. Buono l'esordio di David Marble. Benvenuti al GR in Cronaca, edizione del 30 gennaio. In studio Silvia Rizzetto. Rilasciavano finti contratti di lavoro a cittadini extracomunitari. Attuate misure cautelari nei confronti di cinque persone. L'associazione criminale gestiva due società fantasma. I dettagli nel servizio di Beatrice Maroni. Sventata, un'associazione criminale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla truffa ai danni dello Stato. È il risultato dell'operazione Bologna sommersa, che Carabinieri e Polizia hanno condotto a partire dall'agosto 2017. Con le indagini si sono scoperti più di 200 finti contratti di lavoro, rilasciati a cittadini extracomunitari, che ottenevano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre che in debita erogazioni da parte dell'Inps. I responsabili delle due società fantasma, un uomo e una donna dell'Interland bolognese, che collaboravano con stimati professionisti del settore. Oltre alle misure cautelari nei confronti di cinque persone delle due società, le forze dell'ordine hanno provveduto al rigetto delle istanze dei permessi di soggiorno e al recupero delle somme indebitamente percepite. Passiamo alla politica. Ieri Romano Prodi ha incontrato la redazione di Incronaca. Andiamo a sentire alcuni estratti della sua intervista. Mentre venivo qui pensavo a questi giovani giornalisti che dovranno scrivere di tante cose nella loro vita, pensavo a questi sconvolgimenti del mondo. Poi pensavo alla virus. che in questi giorni arrivano. Gli svolgimenti della storia e gli avvenimenti imprevisti di cui dovrete tener conto in tutta la vostra vita, con la difficoltà di pesarne le conseguenze e la dimensione nel momento in cui avvengono. Riflettevo su come è difficile oggi commentare questi avvenimenti. Poi improvvisamente abbiamo tutti questi ritori della storia. Quindi il vostro vestire fra l'analisi di lungo periodo e l'avvenimento che interrompe questa analisi. Ecco, io pensavo che tutta la vostra vita voi avrete continuamente queste scosse e la necessità di dare a quello che accade ogni giorno, non dico un'interpretazione, ma metterla nel filo degli avvenimenti della storia. Passiamo ora all'economia. Insieme per il lavoro, il progetto che favorisce l'avviamento professionale di persone con difficoltà, è successo nel 2019. Ce lo racconta Francesca del vecchio. Presentato il bilancio 2019 di Insieme per il lavoro, il progetto che inserisce nel mondo del professionismo persone con difficoltà. L'hanno presentato il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi, il sindaco Virginio Merola e l'assessore a lavoro Lombardo. 237 le imprese che hanno collaborato e 124 al mese i contratti che sono diventati a tempo indeterminato, segnando un incremento del 50%. Tra gli obiettivi per il 2020, un incremento del 25% nell'occupazione, un raddoppio dei contratti a tempo indeterminato e l'organizzazione della prima fiera metropolitana del lavoro. Infine lo sport con il basket. Con la terza vittoria consecutiva in Eurocup, la Virtus, che ha battuto Trento 94 a 70, si piazza seconda nel girone. I dettagli nel servizio di Chiara Marchetti. È una grande Virtus quella che si è vista al Paladozza ieri sera. Gli uomini di Giorgevic hanno travolto 30 in Eurocup per 94 a 70 e si sono confermati secondi nel girone. Dopo un inizio in equilibrio con un Alessandro Gentile particolarmente ispirato in attacco per Trento, per lui 16 punti alla fine, le V nere cominciano a staccarse a fine secondo quarto per poi completare la fuga all'inizio della ripresa. Letali di pick and roll tra Teodosic e Gamble, quest'ultimo MVP della gara con una doppia e doppia da 21 punti e 11 rimbalzi. Incisivo anche Pippo Ricci, molto preciso dalla lunga distanza e solido in difesa. Sul più venti a fine terzo quarto Giorgevic comincia a far ruotare la sua lunga panchina, riuscendo comunque a mantenere una buona qualità di gioco. Da menzionare l'esorio dello statunitense Devin Marble, ultimo acquisto in casa Virtus arrivato dalla California due giorni fa. Per lui 5 punti e una buona presenza in campo. Prossimo impegno in Eurocup il 5 febbraio in casa contro il Partisan Belgrado di Coach Trinchieri, partita fondamentale per la qualificazione in quarti di finale dopo il meno 18 dell'andata. Per oggi è tutto, un saluto dalla redazione di Incronaca.